Intanto per dirvi e confermare quello che vi ho detto all'inizio, chi ha la Bibbia può prendere Coelet 3,19? Io non so se ciò che c'è scritto qui è vero, però dobbiamo sapere che questo è scritto. Infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali. Come muoiono questi, così muoiono quelli. Questa è una Bibbia di famiglia cristiana, non le mie traduzioni. Gli uni e gli altri hanno uno stesso respiro, soffio vitale, senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale. Gli uni e gli altri sono vanità, essi vanno tutti verso lo stesso luogo, gli uni e gli altri vengono dalla polvere, gli uni e gli altri tornano alla polvere. Così ha compreso che non c'è alcun bene per l'uomo se non che egli goda di ciò che fa perché questo è il suo destino. Nessuno infatti lo porterà a vedere ciò che accadrà dopo di lui. Questo è scritto nella Bibbia. Allora, dopodiché possiamo dire che la Bibbia parla di spiriti, di anima, di tutto quello che ci viene raccontato. Però ciò che ci viene raccontato noi lo dobbiamo ascoltare sapendo ciò che c'è scritto. Perché altrimenti ascoltiamo solo quello. Ma così è scritto. Dopodiché chi ha scritto il coelete era un ignorante. Benissimo, non è un problema per me. Non è un problema. Però allora diciamo che la Bibbia è stata scritta anche da ignoranti. E sicuramente se esiste l'anima questo non l'ha ispirato Dio, no? Ok? Ma allora cosa facciamo? Ci mettiamo lì e diciamo questo versetto l'ha ispirato Dio, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Allora o la Bibbia l'ha ispirata Dio o, come è evidente, la Bibbia è un lavoro di decine, decine di uomini. Ma questo è scritto. L'uomo e l'animale sono uguali, finiscono nella polvere. È uscito da due settimane in Italia un libro del professor Sutlow che è docente di studi giudaici alla Brown University di Rhode Island che ha come sottotitolo Come la Bibbia divenne sacra. Il titolo è E il Signore parlò a Mosè. Sono 400 pagine che io mi sono devorato più o meno in tre notti perché ho la fortuna di dormire poco e non risentirne il giorno dopo e dove lui documenta come hanno fatto diventare sacra la Bibbia. Io per fortuna nel 2013, per fortuna, 2003, ho scritto un libro, la Bibbia non è un libro sacro. Per fortuna l'ho scritto nel 2013. Adesso lo scrive un docente di studi giudaico, ebreo tra l'altro. Docente di studi giudaici, universitario. L'hanno fatta diventare sacra e sapete se avrete voglia di leggere quel libro? Perché l'hanno fatta diventare sacra? Per motivi di prestigio culturale, denaro e potere. Ma guarda un po'. Se poi andate a leggere quel libro, ma quello è uno dei tanti ovviamente, e vedete come la Bibbia si è venuta costruendo nel secoli, capirete appunto che forse la cosa migliore sarebbe prenderla e buttarla nel cassonetto. Ma non possiamo farlo. Non possiamo farlo perché anche il sistema finanziario che ci governa è descritto lì. Ed è applicato meravigliosamente. Meravigliosamente, alla lettera è applicato. Dopodiché Dio ama gli uomini? Fantastico, possiamo pensare che Dio ama gli uomini, ma ci mancherebbe. Peccato che nella Bibbia non ci sia scritto. Un anno e mezzo fa Scalfari aveva scritto sia a Benedetto XVI, sia al rabbino capo della comunità di Roma. dicendo ma il vostro Dio non è che sia così questo gran esempio di bontà. E gli avevano detto ma Scalfari, vatti a leggere per esempio Levitico XIX. Non vendicarti e non serbare rancore contro i figli del tuo popolo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Qui. Ok? Benissimo. Qui. Chiunque maltratterà suo padre e sua madre sia messo a morte. Chiunque commetta adulterio con una donna sposata come chiunque commetta adulterio con la donna del suo prossimo, l'adultero e l'adultera siano messi a morte. Se uno ha avuto rapporti con la nuora, siano messi a morte ambedue. Senza serbare rancore ovviamente. Cioè leggiamola la Bibbia. Leggiamola la Bibbia. Perché così la capiamo. Capite? Cioè questo è il discorso. Allora quando lui parla del prossimo, tra l'altro in questi ordini qui del prossimo c'è una cosa interessante. Subito qui, eh? Ama il tuo prossimo come te stesso. Le tue bestie non le accoppierai tra specie diverse. Ne indosserai una veste di due tessuti diversi. Allora non dice, ma allora Dio diceva, ma insomma se mi metto una tunica fatta di cotone e di lana, quello si incazza. No. Quelli che entravano da lui, cioè quei pochi che erano autorizzati a entrare nella sua casa, diciamo nella parte più interna dove avvenivano cose molto pericolose. Tant'è che se si entrava nei momenti sbagliati si moriva. Senza alcuna possibilità di salvezza, perché avvenivano delle cose alle quali non si poteva e non bisognava essere presenti, dovevano indossare sulla pelle, coprire completamente il corpo con il lino. E la vestizione è precisamente descritta. Sapete il lino che proprietà ha nei confronti dell'elettricità? No? Per esempio difende dalla cosiddetta elettricità elettrostatica. Bene. Lo sapete che se voi dentro quel lino ci mettete della lana, quella proprietà lì finisce immediatamente? Quindi, se uno si metteva lino e lana, correva rischi. Soprattutto per chi entrava lì dentro. E quindi bisognava vestirsi solo di lino. Poi qui hanno fatto una raccolta di tutte le varie indicazioni. Ma queste cose qui, leggendo la Bibbia e leggendola facendo finta che ciò che scrivevano fosse, sia vero, fosse vero, beh, capiamo un sacco di cose e vi garantisco, ve lo sottoscrivo, non c'è bisogno di inventare nulla. Non c'è bisogno di inventare nulla. Dopodiché, noi possiamo stabilire se la Bibbia dice il vero o dice il falso. Io però, ciò che faccio, è dirvi, guardate che nella Bibbia c'è scritto questo. Quindi io non vi dico la verità, intesa come verità assoluta, perché io non ce l'ho. Non ce l'ho. Cioè, se volete la verità assoluta, andate dai maestri che ce l'hanno. Io sono l'ultimo uomo della Terra a cui suonare il campanello per questo. Io faccio il lavoro più stupido, più da idiota di questo mondo. Vi dico, guardate che nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto questo. Dopodiché, fatene quel che volete. E se nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è scritto che questo muro è rosso, io vi dirò, nella Bibbia c'è scritto che il muro è rosso, che non vuol dire che il muro è rosso, ma io vi dico che nella Bibbia c'è scritto che il muro è rosso. Poi tutti assieme vediamo che il muro è bianco e diciamo la Bibbia ci racconta balle. Benissimo. Che problema c'è? Prendiamo atto del fatto che la Bibbia ci racconta balle. Ma il mio compito è dirvi che nella Bibbia c'è scritto che il muro è rosso. Punto. Dopodiché voi stabilite se la Bibbia è credibile oppure no. Tanto non dovete dirlo a me. Facciamo finta che la Bibbia ci racconti una storia concreta. Se facciamo finta che la Bibbia ci racconti una storia concreta, e per fortuna c'è una parte della scienza accademica, universitaria, genetica, che sta prendendo in seria considerazione l'idea che la Bibbia ci abbia raccontato una storia concreta anche nel modo in cui ci hanno fabbricati, cioè con l'ingegneria genetica. Allora noi, per esempio, ricordiamo la vicenda della pecora Dolly, sapete, 1997, clonazione della pecora Dolly, che ha ovviamente determinato tutta una serie di problemi di ordine etico, perché uno dice dall'animale si passa all'uomo, e quindi questo che problemi etici pone, e quindi intervistati, filosofi, pensatori, esperti di bioetica, scienziati, uomini di religione, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi tutti si sono posti, intervistati i rabbini. Sapete che cosa ha detto il professor Safran, rabbino, docente di etica medica alla Università Ebraica di Gerusalemme? La clonazione? Ma che problema è? La Bibbia la conosce da sempre. Basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva. Lo sanno da sempre che la Bibbia dice quello. Lo sanno da sempre. In quel forum che vi dicevo prima, scrivono, ed è in rete, che la Bibbia parli di ingegneria genetica. Gli ebrei lo sanno da sempre attraverso il Talmud. Lo sanno da sempre. Uno si dice, ma perché se lo sanno da sempre, perché non ce lo dicono? Perché hanno ragione a non dircelo. Hanno ragione. Perché i cristiani hanno rubato questo libro agli ebrei, letteralmente rubato, se ne sono appropriati, lo hanno trasformato in ciò che non era, hanno trasformato Yahweh in ciò che non era, e quindi gli ebrei da questo punto di vista, da questo punto di vista, sono vittime di una rapina vera e propria. E quindi se io fossi un ebreo, direi, voi ci avete preso questo libro, ne avete fatto ciò che avete voluto, ci avete costruito sopra ciò che avete voluto, credete a ciò che avete costruito. Che dovere abbiamo noi di dirvi come stanno le cose? Nessuno, di fatti. Nessun dovere.